Ciao a tutti, eccomi tornata dalla vacanza, la vacanza che facciamo quasi tutti gli anni in Alto Adige, ormai da tempo. Questa è la casa, l'appartamento che abbiamo preso in affitto per 15 giorni, dei signori Auer e guardate che panorama, che bellissimo panorama che abbiamo, come ci affacciamo della finestra. Questa è la mia cucciola, io direi che non ha sofferto per niente del viaggio che abbiamo fatto. Tutte le mattine troviamo l'insalatina e il latte fresco delle mucche dei proprietari, i padroni di casa. Guardate che insalatina e quei fiori sono commersibili, eh? La signora ce li mette sempre dentro l'insalata. Mio marito si guarda il panorama con i binocoli e ogni tanto si vedono anche dei caprioli quando escono dal bosco. Bene, di seguito vi metterò qualche altra foto, qualche scatto di tutti i luoghi che abbiamo visitato. Intanto ascoltatevi la voce del bosco. Grazie a tutti. E questi sono i frutti del bosco, naturalmente anche fragoline, vertigli, lamponi, ma i funghi amo tantissimo raccoglierli, è un'emozione indescrivibile. ed eccone un altro, giriamolo, ecco qua, così non strappiamo le radici, una pulita, bello bello, bello, bello duretto, eh sì, eccolo qua. Li abbiamo raccolti e mangiati insieme agli amici con cui stavamo insieme, mia sorella, mio cognato. Siamo stati benissimo. Adesso di seguito poi vi metterò anche i luoghi che abbiamo visitato con le descrizioni e spero che questo video vi piaccia. Ci vediamo presto. Ciao a tutti! 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 conoscato grande. andiamo preso il sentiero da sotto poi là e la scala grande bella 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 bella